Il killer dell'arbitro di calcio Daniele De Santis di Lecce e della sua compagna Eleonora Manta di Secli, funzionaria presso gli uffici IMSS di Brindisi, sarebbe stato ripreso da una telecamera. Il frame è stato pubblicato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, un'immagine poco nitida che però potrebbe dare una svolta alle indagini. Il plurioomicida, con un pugnale somigliante a quello utilizzati dai sub, ha ucciso i due con 60 coltellate, 35 per Eleonora e 25 per Daniele. Per ora la pista del delitto passionale sembra quella privilegiata. Si stanno analizzando altri occhi elettronici. A caccia del killer un individuo di età molto giovane, di statura regolare, alto poco meno di un metro e 80 centimetri, indossava indumenti di colore nero, zainetto e guanti. I carabinieri del Ross stanno lavorando per estrapolare informazioni preziose dai telefoni delle vittime. Al setaccio i profili social della coppia Instagram e Facebook l'autorità giudiziaria ha disposto nuovi esami sul corpo delle vittime e il rito funebre è stato pertanto rimandato nei prossimi giorni.